Perciò questo è il consiglio che ho dato prima, ho detto io, testa bassa, poi mi sembra che lui non l'ha detto nemmeno, ha lasciato una scuola, ma si è scritta un'altra scuola, non è che ha lasciato la scuola, sta facendo quello che lui voleva, perché l'oggi con un genitore, mi mettono i panni di un genitore, ha la parola scuola alberghiera, un liceo, il genitore vede un futuro al liceo. Questi sono gli errori che uno può fare, perché poi il genitore è un mestiere difficile, perciò c'è sempre la vita di dare sempre l'opportunità del recupero, di rialzarsi a partire, e lui l'ha avuto e non lo deve rovinare, si deve concentrare, deve fare come lui oggi mi dice, adesso voglio fare subito degli stage, tre mesi, due mesi, ho detto, Ale, se stai un po', se stai bene, fatti un anno, un anno e mezzo, poi dopo, quando hai il tuo mestiere, incominci a guardare in giro, vado tre mesi nel migliore ristorante della Francia, adesso tu hai bisogno di una grande bassa, perché poi dalla bassa si può costruire quelle che volete. Grazie. Grazie.